E' morto cadendo da un'altezza di 16 metri mentre insieme ad alcuni colleghi stava camminando sulla copertura di un capannone alla Bioman di Maniago. Aveva 27 anni, Sufiane Tuami, era originario del Marocco e abitava a Savona. Dipendente di una ditta milanese nell'azienda di Via Vivarina, era impegnato ieri nel montaggio di pannelli fotovoltaici sulla superficie di un nuovo capannone. L'operaio stava camminando sulla copertura quando, per causa ancora da chiarire, un pannello di lamier ha ceduto e lui è precipitato all'interno del capannone. I primi a soccorlo sono stati dei colleghi che, dopo averlo raggiunto, hanno subito chiamato i soccorsi. Il 27enne era incosciente e le sue condizioni, dopo un volo di circa 16 metri, sono apparse subito disperate. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso col personale sanitario che gli ha prestato le prime cure. Le sue condizioni erano troppo gravi per tentare di trasferirlo all'ospedale di Udine. Così, medici e infermieri hanno deciso di trasportarlo al Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza. Sufiane è morto però poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario sono giunti i carabinieri della compagnia di Spilimbergo e i tecnici dello Spisal. Su richiesta del magistrato di turno Maria Grazia Zain, il pannello che si è spezzato sotto il peso dell'operaio è stato sequestrato. Dovranno ora essere valutate le condizioni di sicurezza e verificato se l'operaio avesse sufficienti dotazioni per prevenire gli infortuni.